Al quarto posto per il gruppo atletico Aristide Coen Valentina Spoladoro con il tempo di 9 e 1 Con lo stesso crono al terzo posto per la felice mestre Cristina Segnana Seconda posizione per il gruppo atletico Aristide Coen Con il tempo di 9 e 1 Filetta Moressa E al primo posto per l'atletica audace noale con il tempo di 8 e 8 Anna Kleinfin Partita la serie numero 8 Veloce in corsia 2 Laura Moressa Che fa altrettanto bene in corsia 6 Attenzione Valentina Spoladoro di Valizia Coen Che allunga sulla seconda parte di gara E domina la serie numero 8 dei 60 piani ragazzi Forza 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 Il che va a vincere la sua prova Grazie.